simon bombard la trovava spesso brutta la vita era nato con un'incredibile attitudine a non far nulla e uno smodato desiderio di non contrariare questa vocazione ogni sforzo morale o fisico ogni movimento compiuto per una qualunque bisogna gli pareva soverchiare le sue forze non appena sentiva parlare di una faccenda seria si distraeva assomente essendo incapace di una tensione o di un'attenzione figlio di un mercante di Caen se l'era passata tranquillamente come si diceva in famiglia sino all'età di 25 anni ma poiché i genitori erano più prossimi al fallimento che alla fortuna egli soffriva orribilmente della penuria di denaro grande e grosso con un paio di fedine fulve alla normanna che gli incorniciavano le guance la carnagione colorita l'occhio azzurro sciocco e gaio il ventre appena incipiente si poteva considerare un bel giovane vestiva con un'eleganza chiassosa di provinciale vestito a festa rideva, gridava, gesticolava ad ogni proposito scolinando il suo buon umore rumoroso con una spavalderia di commesso viaggiatore pensava che la vita fosse fatta unicamente per bamboleggiare e scherzare e non appena doveva mettere un freno alla sua gioia gracchione cadeva in una specie di sonnolenza ebete non essendo neanche capace di tristezza incalzato dal bisogno di denaro era solito ripetere una frase divenuta celebre nella cerchia delle sue conoscenze per 10.000 franchi di rendita mi farei boia si recava ogni anno a passare una quindicina di giorni a Trouville chiamava questo spasso fare la sua stagione si insediava presso alcuni cugini che gli concedevano una stanza e dal giorno dell'arrivo a quello della partenza passeggiava lungo la spiaggia sabbiosa procedeva con un passo sicuro con le mani nelle tasche o dietro la schiena sempre vestito di ampi abiti di panciotti chiari e di cravate vistose con il cappello sull'orecchio e un sigalo da un soldo all'angolo delle labbra camminava rasentando e addocchiando le donne eleganti squadrando gli uomini in modo quasi provocante cercando cercando poiché cercava qualcosa cercava una donna che facesse per lui spiando sul viso di ognuna la possibilità di una buona fortuna diceva il diavolo tra tutte quelle che sono qui troverò bene quella che fa il caso mio e cercava con un fiuto di cane da caccia un fiuto normanno certo di riconoscerla soltanto a vederla quella che lo avrebbe fatto ricco fu un lunedì mattina che morborò guarda 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 faceva un tempo magnifico uno di quei tempi gialli e turchini del mese di luglio in cui si direbbe che piove addirittura calore la spiaggia popolata di gente di donne eleganti e di colori aveva l'aspetto di un giardino femminile le barche da pesca dalle vele brune quasi immobili sull'acqua turchina che le rifletteva sembravano sonnecchiare sotto il grande sole delle dieci erano presso il pontile le une vicine e le altre più lontane in mote come appesantite dal torpore estivo troppo svogliate per raggiungere l'alto mare o per rientrare in porto e laggiù in distanza si scorgeva vagamente nella bruma la costa di Leavre con i puntini bianchi dei suoi due fari aveva detto a se stesso guarda 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 incontrandola per la terza volta sentendo su di sé il suo sguardo di donna matura esperta e ardita che si offre l'aveva già notata nei giorni scorsi poiché pareva anche lei in cerca di qualcuno era un inglese assai alta un po' magra l'inglese audace che i viaggi e le circostanze hanno resa una specie di uomo non brutta del resto incedeva a passi brevi e rigidi vestita semplicemente sobriamente con uno strano cappelluccio come tutte quelle della sua razza aveva gli occhi assai belli le guance assai rosse e scorgenti i denti troppo lunghi sempre in mostre quando le giunse presso il porto ritornò sui propri passi per vedere se l'avrebbe incontrata di nuovo la incontrò infatti e le gettò uno sguardo infiammato uno sguardo che diceva eccomi qui ma come parlarle ritornò una quinta volta e se la vide venire ancora incontro come gli fu vicino lei lasciò cadere l'ombrello lui si slanciò a raccoglierlo glielo porse permettete signora lei rispose oh voi siete molto gracieuse e si guardarono non sapevano più che cosa dirsi lei era arrossita diventando ad un tratto ardito simon bombar arrischiò fa un tempo magnifico e lei mormorò oh deliciose e rimasero ancora l'uno di fronte all'altro imbarazzati senza pensare peraltro nessuno dei due ad andarsene lei ebbe l'audacia di chiedere vuoi stare molto tempo in questo paese simon rispose sorridendo oh sì finché vivrò poi subitamente propose volete venire a fare una passeggiata sino al molo è così bella la riva in questi giorni lei disse semplicemente ah voglio si avvicinarono a fianco l'uno dell'altra lei con il suo incedere dritto e asciutto lui con la sua andatura d'ondolante di tacchino che fa la ruota tre mesi dopo i più ragguardevoli commercianti di Caen ricevettero una mattina il seguente biglietto il signore e la signora Bombard hanno l'onore di annunciare le nozze del loro figlio simon con la signora vedova Kate Robertson e sull'altra facciata la signora Kate Robertson ha l'onore di annunciare le sue nozze con il signor Simon Bombard si stabilirono a Parigi i beni di fortuna della signora sommavano a 15.000 franchi netti di rendita simon pretese per sé 400 franchi al mese dovette dimostrare che la sua tenerezza meritava quel sacrificio lo provò facilmente e ottenne ciò che chiedeva nei primi tempi tutto andò bene la signora Bombard non era più giovane certo e la sua freschezza aveva subito scosse ma aveva un tal modo di esigere le cose che non si poteva rifiutargliele diceva con il suo accento inglese volitivo e grave oh Simon andiamo a letto e Simon andava verso il letto come un cane ai suoi comandi alla cuccia e lei sapeva volere tutto di giorno come di notte in un modo che piegava tutte le resistenze non si addirava non faceva scene non gridava mai non aveva mai l'aspetto irritato o ferito o urtato sapeva parlare ecco parlava a proposito con un tono che non ammetteva repliche più di una volta Simon rimase esitante ma dinanzi ai comandi brevi e imperiosi di quella donna singolare finiva sempre per cedere trovando peraltro monotoni e magri i baci coniugali e avendo in tasca di che pagarsene di migliori se ne concesse a sazietà ma naturalmente con mille precauzioni la signora Bombard un giorno se ne accorse senza che lui riuscisse a indovinare come e gli annunciò una sera che aveva preso in affitto una casa amante dove sarebbero andati ad abitare l'esistenza colà divenne più dura Simon tentò di concedersi altre distrazioni ma non riuscivano però a compensare il bisogno di conquiste femminili cui il suo cuore anelava si diede alla pesca imparando a distinguere le profondità del ghiozzo e quelle della carpa le rive favorite della reina e a conoscere le diverse esche necessarie per le diverse qualità di pesci ma guardando il galleggiante oscillare sulla superficie dell'acqua altre visioni gli occupavano la mente diventò amico del capo ufficio della sottoprefettura e del capitano della gendarmeria e giocava con loro al guist la sera al caffè del commercio ma suo occhio triste andava svestendo la regina di fiori o quella di quadri mentre il problema delle gambe mancanti in quella figura a due teste confondeva tutte le immagini sboccianti nel suo pensiero concepì un giorno uno stratagemma un vero stratagemma di astuto normanno fece assumere alla moglie una domestica non una bella ragazza civettuolo e graziosa ma una ragazzona rossa e sudicia che non avrebbe destato sospetti e che avrebbe preparato con cura i suoi progetti fu loro raccomandata dal direttore del dazio un amico complice e compiacente che la garantiva sotto tutti i riguardi la signora bombare accettò con fiducia il tesoro che le venne offerto simon fu felice con precauzione con timore e con incredibile difficoltà non rubava alla sorveglianza inquieta della moglie che brevi momenti di qui e di là senza tranquillità cercava un trucco uno stratagemma e finì per trovarne uno che riuscì a meraviglia la signora bombare che non aveva nulla da fare si colicava assai presto mentre simon il quale si tratteneva al caffè del commercio a giocare rincasava ogni sera alle nove e mezzo precise pensò di far attendere victorin nel corridoio sulla scala del vestibolo al buio lui poteva disporre soltanto di cinque minuti al più poiché temeva sempre una sorpresa della moglie ma insomma cinque minuti di tanto in tanto bastavano al suo ardore che lasciava scivolare un luigi da che era assai generoso nelle mani della domestica che risaliva in fretta nella sua soffitta simon rideva raggiante ripetendosi ad alta voce come il barbiere del remida mentre tra i canneti pescava gli argentini gabbata la padrona e il piacere di gabbare la moglie equivaleva certo per lui a tutto ciò che aveva di imperfetto ed incompiuto la sua conquista a pagamento ora avvenne una sera che lui trovasse come di consueto victorina ad attenderlo sulle scale e che lei gli sembrasse più pivrante più animata del solito si trattenne nel corridoio circa dieci minuti entrando nella camera coniugale non trovò la moglie sentì un brivido freddo corrigli per la schiena cadde su una sedia preso d'angoscia lei comparve con un candeliere in mano simon chiese trepidante è riuscita rispose tranquilla sono stata in cucina a bere un bicchiere d'acqua simon si sforzò di calmare i sospetti che la poteva nutrire ma appariva così tranquilla felice fiduciosa che si rassicurò appena si furono messi l'indomani a tavola per la colazione victorin entrò con un piatto di costolette come stava per uscire dopo aver deposto il piatto sulla tavola la signora Bombar le porse Luigi che teneva delicatamente tra le dita dicendole con il suo accento calmo e serio prendete ragazza mia sono i venti franchi di cui vi ho privata ieri sera la ragazza interdetta prese con aria ebeta la moneta d'oro mentre simon atterrito sbarrava due occhi enormi addosso alla moglie impassibile